Entro l'anno il mio sostituto. Lo ha ribadito ieri in Basilica il Vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli durante la celebrazione della traslazione di Sant'Ubaldo, ufficiata per l'occasione dal neosacerdote Francesco Menichetti. 32 anni eugubino laureato in filosofia all'Università di Perugia, un'esperienza di studio post laurea a Strasburgo, Menichetti è stato anche consigliere comunale della città nelle file della maggioranza che sosteneva l'allora sindaco Orfeo Goracci, candidato ed eletto nella lista sinistra unita, capitanata da Renato Albo. La politica, che sembrava essere la sua via per spiccate doti comunicative e relazionali, viene però presto abbandonata, ma non a mano che matura un'altra vocazione, quella religiosa. Da lì il percorso canonico, con gli studi presso il Pontificio Seminario Umbro Pio XI e il diploma lo scorso anno all'Istituto Teologico di Assisi. Domenica l'ordinazione sacerdotale presso una gremita chiesa di San Domenico con il Vescovo Ceccobelli che ha ricordato come questa sia stata la quinta ordinazione sacerdotale dal 2005 ad oggi e per lui anche l'ultima. Un numero esiguo, ha detto Ceccobelli, indicando nella povertà di vocazioni il vero pericolo per la sopravvivenza della diocesi, segno di una comunità diocesana sterile. La diocesi, ha detto Ceccobelli, rimarrà autonoma se avrà le energie per evangelizzare, per guidare le comunità e amministrare i sacramenti.